All'interno della coalizione di centrodestra a sostegno di Zanin non c'era spazio per loro, una presenza scomoda per molti, soprattutto per l'SVP, fondamentale in ottica di ballottaggio. E così i militanti di Casa Pound hanno deciso di presentarsi ancora una volta da soli alle elezioni bolzanine, anche se a livello nazionale il movimento di estrema destra un anno fa aveva deciso di non partecipare più al voto con il simbolo della tartaruga frecciata, un'eccezione quella del capoluogo altoatesino. Per un anno abbiamo provato a cercare di collaborare con quella che dovrebbe essere la coalizione di centrodestra, la coalizione di centrodestra che prende dal centro alla destra, ma si vede che una parte di questa destra, questa coalizione non la vuole. Noi sinceramente con la campagna elettorale partiamo da oggi perché prima eravamo impegnati appunto a lavorare quello che molti di loro non hanno fatto in tutto questo periodo, è durato cinque anni dove purtroppo sono state bocciate delle emozioni a causa delle troppe assenze della stessa gente che oggi è candidata. Purtroppo non siamo riusciti a bloccare determinate delibere, vedi questo cubo orribile qui in Piazza Matteotti anche per colpa di assenze appunto di certi elementi, di certi consiglieri. Casa Pound si presenta con una lista di 23 nomi a sostegno del candidato sindaco Maurizio Puglisi Ghizzi, consigliere uscente insieme ad Andrea Bonazza e a Sandro Trigolo. Superare quel 6% conquistato all'ultima tornata elettorale sarà compito difficile, la campagna parte dai temi concreti. Piazza Matteotti perché in questo momento è il biglietto da visita dell'organizzazione che ha questa giunta comunale uscente, cioè non sono stati capaci di organizzare una serie di lavori che sono necessari anche sotto certi aspetti come il teleriscaldamento o dei parcheggi o i lavori del cantiere di Benco che dovevano essere organizzati.